Ciao a tutti da Diego di TecnoFan.it, oggi speciale National Geographics, no scherzo, allora questo è un video in Full HD con iPhone 14 Pro Max, mi trovo in questo splendido mulino abbandonato, si chiama mulino soprano, è un sentiero di castellanovo magra, adesso grande angolare e facciamo un attimo un blitz qua dentro, vediamo anche come si comporta la stabilizzazione, guardate qua che spettacolo, ragazzi una volta facciamo dei lavori veramente allucinanti, peccato che è andato completamente abbandonato, proviamo ad avvicinarci un pochino, guardate un po' questa mola qua giù, sembra anche piuttosto nuova, ritorniamo al nostro 1x, anzi partiamo con il grandangolo, camminiamo un pochino, 1x, proviamo a fare una ripresa ravvicinata, ad esempio questo chiodo, in questo momento ho disattivato la macro, quindi sono tutte riprese che fa in automatico con l'autofocus. riusciamo a vedere il soffitto o meglio quello che ne resta e usciamo, questo era un video registrato in full hd 30 fps con iphone 14 pro max, ciao!